Sinfonia di motori per l'ultimo saluto a Luciano Battisti Cantiano senza rinforzi l'amministrazione a rischio collasso Talent Day nuove leve per alberghi e ristoranti Gabice Mare apri pista di un nuovo turismo intelligente Musica Pesaro spinge i Revenant al concertone del primo maggio Buona serata, ben ritrovati al nostro telegiornale Oggi è mercoledì 29 marzo e apriamo questa edizione con le immagini girate questo pomeriggio alla chiesa di Soria dove un lungo corteo di motociclisti ha accompagnato l'ultimo saluto a Luciano Battisti stimato industriale e autentico depositario della storia del motociclismo cittadino Una sinfonia di motori per l'ultimo viaggio di un'esistenza tutto gas e il rombo della storica moto Benelli che fu guidata da Renzo Pasolini a sgasare sull'ultimo saluto di Luciano Battisti all'uscita del ferretro della chiesa di Soria chiesa in cui l'imprenditore titolare dell'azienda di bruciatori Radiant è arrivato scortato da un lungo corteo di motociclisti che lo ha accompagnato dall'obitorio di Muraglia fino alla funzione religiosa di commiato dalla vita terrena Un ultimo saluto che ha radunato questo pomeriggio un intero microcosmo di centauri pesaresi di diverse generazioni Battisti è morto domenica in seguito a un male incurabile Aveva 78 anni Otto decenni trascorsi sempre in sella o al fianco di una moto Fu pilota della moto B, fu tra i fondatori del registro storico Benelli e presidente onorario dello stesso motoclub Tonino Benelli Soprattutto possedeva una collezione di 216 moto pronte a dare vita ad un museo senza uguali nel segno del leoncino Possedeva quelle che furono guidate da Sarinen, Lawson, Pasolini, Grassetti, Carruthers e Campanelli Non è un caso che tutte le personalità gravitanti fra passato e presente delle officine Benelli si siano radunate oggi nella chiesa di Soria per salutare la scomparsa di una stella polare della tradizione del leoncino Con loro esponenti di ogni declinazione motoristica dalla FMI all'Asi fino all'autoclub storico Dorino Serafini L'affetto e la stima di cui godeva Battisti sono commisurabili al migliaio di cuori commossi che hanno voluto salutarlo Amici, istituzioni, tanti esponenti del mondo industriale e delle due ruote Riuniti in una chiesa stracolma quanto il piazzale esterno Uniti nel porcere una carezza alla moglie Graziella, al fratello Paolo, alla famiglia Battisti Una famiglia che proseguirà il sogno di Luciano di realizzare un museo con la sua ineguagliabile collezione Da Pesaro ci spostiamo a Cantiano dove finalmente si sta muovendo la macchina dei ristori post alluvione Ma l'amministrazione comunale è troppo sottodimensionata per mettere a terra con rapidità le risorse In questa intervista il sindaco Alessandro Piccini lancia un appello al commissario per l'emergenza A sei mesi e mezzo di distanza dall'alluvione il comune di Cantiano ha organizzato un terzo momento di confronto con la sua cittadinanza Per aggiornare i cantianesi sullo stato d'avanzamento dei provvedimenti di ristoro e sulle difficoltà tecnico-operative che si stanno gestendo Su tutte quella più prettamente burocratica di una macchina comunale troppo ridotta per poter coincidere l'ordinario Con la straordinaria mole di lavoro di ripartenza da una calamità naturale Sembrerebbe tutto passato per chi ahimè non si è visto distruggere, vanificare i risparmi della vita in due ore di pioggia Perché ancora i danni sono milionari Noi tra patrimonio pubblico, privato e attività di impresa abbiamo quasi 70 milioni di euro di danni Ad oggi nelle casse del comune, grazie all'ultimo provvedimento di venerdì scorso, abbiamo in cassa qualcosa come 2 milioni di euro Che però è un supporto marginale rispetto a quello che servirebbe Ora il mio appello è quello di supportarci dal punto di vista tecnico-amministrativo Perché finora il problema è non aver avuto le risorse, ora il problema diventerà metterle a terra, spenderle quelle risorse Solo i provvedimenti legati ai ristori, ai privati cittadini e attività di impresa su Cantiano sviluppano 273 richieste di contributi La struttura comunale ha un geometra e un ragioniere Quindi se l'obiettivo è la celerità del trasferimento delle risorse non è questa la strada Perché se tutto va bene riusciremo tra mesi a poter dare ai cittadini e alle imprese quello che si aspettano Quindi continuiamo in questo nostro appello accorato alle istituzioni, alla struttura commissariare e regionale A fornirci supporto tecnico-amministrativo sia in termini di personale aggiuntivo o magari di risorse Con cui a tempo determinato poter assumere personale da dedicare alla gestione emergenziale Perché il Comune deve portare avanti anche l'ordinario, abbiamo i bilanci di previsione Quindi il rischio, il rischio serio è che così facendo si porti al collasso l'amministrazione comunale E quindi non si riescano più a garantire i servizi alla comunità Ci sono però anche notizie confortanti come quelle arrivate nei giorni scorsi dal Parlamento Che ha prorogato al 2025 i super bonus edilizzi 110 per le aree alluvionate Di questa proroga, di questo importante strumento in mano all'edilizia per la riqualificazione dei nostri immobili È chiaro che non è il solo strumento necessario in questa fase Non si sostituisce ai ristori ma ne diventa complementare Nel senso che chi ha avuto un immobile distrutto non può prescindere dall'accesso ai ristori Perché poi sappiamo quante difficoltà attualmente su cui ci sta mettendo mano il Governo centrale Abbiano poi le imprese a farsi carico delle cessioni dei crediti e degli sconti in fattura Con anche gli istituti di credito che non riescono in questa fase a poterli evadere Quindi insomma per noi è un messaggio importante È un altro pezzo di questo complicato puzzle Che è necessario alla ripartenza delle nostre attività e quindi dell'intero territorio comunale E restando in tema alluvione, come anticipato nell'intervista che l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli ha rilasciato ai nostri microfoni la scorsa settimana È stata fissata per domani nella stessa sede di Marche Multiservizi La conferenza dei servizi decisiva per dare il via alle opere di somma urgenza nei comuni alluvionati Di Cantiano, Sera Sant'Abbondio, Pergola, Caglia, Qualagna Si tratta di una prima tranche di interventi dal valore superiore ai 5 milioni di euro Destinati a decine di azioni su reti fognarie e depuratori distrutte dalle calamità naturali Non solo ristori e interventi di riparazione Anche nuove risorse per la mitigazione del rischio idrologico per un importo di 21 milioni L'assessore regionale Stefano Aguzzi illustra quindi quali interventi verranno finanziati In particolare nella provincia di Pesaro Urbino Prevenire esondazioni, dissesti e danni Arrivano altre risorse per la mitigazione del rischio idrogeologico Attraverso tre decreti firmati dal presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli In qualità di commissario di governo per il contrasto al dissesto idrogeologico L'assessore regionale Stefano Aguzzi ha illustrato oggi portata e specificità degli interventi Sono stati finanziati complessivamente 21 milioni di euro di interventi per combattere il dissesto idrogeologico In molti comuni e molte parti della nostra regione ritenute particolarmente a rischio Quindi si andranno a portare avanti una serie di opere di sistemazione di alve e di fiume Di ampliamento di alcune vasche di espansione e di creazione di nuove vasche di espansione In particolar modo ci interverrà sul fiume Miso, sul fiume Nevola Ma anche sul fiume Tronto, sul fiume Temorto e su altre realtà minori Pur comunque problematiche della nostra intera regione Nello specifico della provincia di Pesaro Urbino saranno stanziati 900 mila euro Nei comuni di Tavuglia, Montelabate e Vallefoglia per la sistemazione del torrente Taccone 260 mila euro nel comune di Urbino per la sistemazione morfologica del tratto terminale Del torrente APSA di San Donato E 160 mila euro per il consolidamento del complesso cimiteriale di Tavuglia danneggiato da frane Ed ora cambiamo argomento e parliamo di opportunità di lavoro per i più giovani In particolare nel settore alberghiero e in quello di bar e ristoranti Tanti ragazzi pesaresi hanno infatti partecipato oggi alla seconda edizione di Talent Day L'appuntamento organizzato da Confcommercio Marche Nord In collaborazione con l'istituto alberghiero Santa Marta Siamo nella sede di Confcommercio Marche Nord Tutto è pronto per il Talent Day Un momento di incontro tra studenti, futuri lavoratori e operatori del settore Della hotelleria e della ristorazione Un momento importante ancora di più perché come riportano le cronache ogni giorno Il tema del personale e del reperimento di personale formato e adeguato È un grande tema in questo momento in cui la stagione ormai è alle porte E il problema che viene espresso da tutti gli operatori è quello di trovare appunto personale adeguato Questa giornata risolve questo tipo di problema e mette a contatto gli operatori tra loro Scopriamo il talento, tiriamo fuori la passione Che questi ragazzi nella scelta che hanno fatto anche scolastica perché fanno il sottolberghiero Quindi vuol dire che hanno già in mente cosa vogliono fare da grandi O perlomeno si stanno affacciando quel mondo già dalla scuola, quindi già dagli superiori Ecco, vogliamo tirar fuori il loro talento e dirgli che c'è un mondo dell'imprenditoria pronto a rispondere a quel talento Basta con questa retorica del ragazzo che non vuole farsi il weekend lavorativo piuttosto che è un nulla facente Ma basta con la retorica anche del datore di lavoro che è pronto a farlo lavorare 14 ore al giorno Noi farlo dormire nello scantinato a 500 euro al mese No, qui oggi noi vogliamo far incontrare il mondo dell'imprenditoria di confcommercio con i ragazzi E comunicargli, costruire un ponte per dire che non è vero quello che sta accadendo Cioè facciamolo alla stagione, l'emergenza lavorativa c'è perché mancano a livello nazionale 210.000 figure nel mondo lavorativo Ma 140.000, quindi più della metà, fa riferimento ai ristoranti, agli alberghi, comunque ai pubblici esercizi in genere Con lo chef Giuseppe Portanova abbiamo seguito il suo intervento e si era creata veramente una grande atmosfera Chef, un bel momento nel quale è arrivato forte tutta l'emozione di chi fa questo lavoro con passione Questo lavoro, come dicevo loro, va fatto con tanta passione e loro sono la nostra benzina E dobbiamo tutelarli, dobbiamo incentivarli a fare questo lavoro Abbiamo bisogno di fargli capire che è un lavoro pazzesco, bellissimo Ma dobbiamo riconoscergli le giuste paghe, i giusti turni Cioè creargli un'aspettativa di vita che sia quella di un lavoro normale Quindi fare questo lavoro, ma avere anche il tempo per vivere una vita esterna E oggi spero di avergli trasmesso questo messaggio Perché noi abbiamo realmente bisogno di forze fresche E che continui questa grande passione della cucina italiana È una giornata che ritengo importante, comunque che può dare tante opportunità Soprattutto a noi giovani Perché ci sono molte persone che cercano dipendenti in questo ambito E quindi sono contenta di aiutare anche per me, comunque per il lavoro e dare una mano Spaventa perché comunque è un lavoro duro e sono orari duri Però se c'è passione la difficoltà non la senti E il servizio completo, lo speciale TV dedicato appunto al Talent Day Lo potrete vedere la prossima settimana, mercoledì 5 aprile alle ore 21.20 Chiaramente sempre su Rossini TV Ora invece ci spostiamo a Roma Dove oggi era presente anche il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini Al taglio del nastro della mostra Le Marche, l'unicità delle molteplicità Un'esposizione che fino al 29 maggio metterà in mostra documenti, immagini e video Dei cittadini illustri marchigiani che hanno reso onore alla nostra regione Dal rinascimento ad oggi Da Raffaello Sanzio a Giacomo Leopardi Da Gioacchino Rossini a Maria Montessori Fino agli sportivi del XXI secolo Come Valentino Rossi e lo stesso Mancini La mostra è curata da Cor Creare, Organizzare, Realizzare Con la collaborazione di Rai Teche e Archivio Storico Luce Ed è visitabile gratuitamente nella splendida cornice di Palazzo Poli Edificio adagiato alle spalle della Fontana di Trevi Al taglio del nastro assieme al CT Mancini Il governatore Acquaroli, il direttore di Atim Bruschini Anche il sottosegretario della cultura Vittorio Sgarbi Gabice Mare diventa apripista di una nuova strategia di fare turismo nelle Marche Attraverso una piattaforma tecnologica in grado di prevedere tendenze di mercato E pianificare strategie Questa mattina ci troviamo a Gabice davanti all'hotel Michelacci Per assistere alla sottoscrizione di un accordo tra gli albergatori del territorio E l'azienda It's Benchmark che garantirà loro dati utili sull'andamento turistico In vista dei prossimi investimenti e strategie di marketing Questa mattina è una mattina molto importante perché finalmente in una destinazione come la nostra Gabice Mare presenteremo un progetto nel quale un gruppo di albergatori Ha dato la disponibilità di mettere a disposizione i propri dati delle proprie strutture Unirli insieme, aggregarli e con un software che si chiama H-Benchmark Riusciamo ad avere delle proiezioni su quelle che sono gli andamenti della nostra destinazione Su quelle che sono le previsioni dello stato dell'avanzamento delle prenotazioni rispetto agli anni precedenti La tipologia di clientela che prenota La tipologia di trattamento che il cliente prenota Quindi diciamo che ci permette di avere una visione molto più completa di quello che è lo stato d'avanzamento del nostro lavoro E di conseguenza ci permette di ragionare in termini strategici molto più approfonditamente Conoscendo quello che è l'andamento delle nostre prenotazioni rispetto alla destinazione Rispetto a un set di competitor che riteniamo nostri competitor Anche se siamo tutti amici e tutti colleghi E lavoriamo tutti per la stessa destinazione Avere un dato che ci permette di capire se la nostra struttura è più avanti o più indietro rispetto alla destinazione Ti fa ragionare in maniera molto più consapevole su quelle che sono le azioni che normalmente facciamo per portare i clienti nelle nostre strutture Siamo molto onorati di aver potuto realizzare questo progetto Grazie proprio al coinvolgimento di Visit Gabici che ci ha dato l'opportunità di intercettare le informazioni che prevengono in tempo reale Dalle PMS, dei software gestionali di più di 20 strutture Creando fin da subito un dato molto rappresentativo Con un campione che rappresenta più del 50% delle strutture della destinazione Tutto questo permette alla destinazione di portare delle informazioni in tempo reale Sulle quali poter basare tutte le strategie di promozione e anche perché no di programmazione eventi E poi le strutture ricettive di comprendere bene il loro posizionamento nell'ambito del mercato della destinazione Trovare pronta risposta a capire le cose quando vanno bene Se vanno bene perché è il mercato che sta andando bene O altre situazioni che magari riguardano particolari momenti della stagione Poter trovare riferimento che effettivamente quei tipi di problematiche non possono essere risolte a livello di singola struttura Ma sono diciamo delle lacune del mercato da colmare tramite strategie non di singola struttura ma di destinazione Tutta questa consapevolezza può orientare bene le strategie commerciali, le strategie di promozione E perché no anche le strategie di investimento che singoli operatori e destinazione possono appunto intraprendere per migliorare le performance Gabizia è stato all'apripista in tutte le marche per quanto riguarda la raccolta di questi dati E al loro fianco come main sponsor Riviera Banca Si tratta di un progetto diciamo così di area che investe il territorio e quindi un istituto del territorio come Riviera Banca non poteva non esserci Tra l'altro siamo particolarmente contenti di aderire perché come non sempre accade Le istituzioni, il pubblico, il privato e le associazioni di categoria riescono a lavorare insieme mi verrebbe da dire in maniera virtuosa Restiamo in tema di turismo ma ci spostiamo dalla costa alla montagna Dopo il titolo di Best Green Accommodation Italia ottenuto alla BIT di Milano È arrivato un nuovo riconoscimento per il rifugio chalet Principe Corsini Ovvero il titolo di ambasciatore della sostenibilità di Slow Food Una bella sorpresa per la struttura del Montenerone premiata per essersi distinta nell'utilizzo di tecniche architettoniche ecocompatibili per la ricostruzione a seguito dell'incendio che l'aveva completamente distrutta Dopo la nomina di Davide Ipaso a responsabile sindacale di Confesercenti a Pesaro L'associazione di categoria rafforza la sua presenza anche a Fano Nominando Stefano Mirisola, ristoratore e vicepresidente di Confesercenti Fano come nuovo responsabile sindacale della Città della Fortuna Venerdì alle ore 21 l'arcivescovo Sandro Salvucci presiderà la via Crucis di Ocesana sul tema Ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni Si partirà dalla chiesa di Santa Maria Assunta a Montecchio per arrivare alla chiesa del Corpus Domini di Padiglione Saranno messe a disposizione navette gratuite andata e ritorno con partenza alle ore 20 e 30 dalle parrocchie pesaresi di San Carlo, Santa Maria del Porto e San Martino Ed ora parliamo di teatro, prosegue la stagione della piccola ribalta giunta al suo undicesimo appuntamento Sabato 1 aprile alle ore 21 e domenica 2 aprile alle 17 nella sede della compagnia in via dell'Acquedotto andrà in scena a 7 minuti di Stefano Massini per la regia di Francesco Corliano Si tratta di un'opera che fin dal suo debutto nel 2014 è diventata manifesto dei temi sul diritto al lavoro E concludiamo il nostro telegiornale parlando di musica Nei nostri studi abbiamo avuto come ospiti una giovanissima band pesarese che è in lizza per salire sul prestigioso palcoscenico del concertone del primo maggio a Roma Per farcela però ha bisogno del supporto della città Vediamo Si avvicina uno degli appuntamenti classici della primavera musicale italiana quella del concertone del primo maggio al quale potrebbe partecipare una giovanissima band pesarese i Revenant che abbiamo oggi qui in studio ma che per partecipare a questo evento hanno anche bisogno della collaborazione della città Abbiamo bisogno in particolar modo del sostegno della città proprio perché appunto siamo una delle prime band del territorio a partecipare ad un contest comunque di questo livello nazionale e siamo molto interessati a portare la voce pesarese e appunto la scena musicale pesarese anche nel resto dello stivale e appunto speriamo che grazie a un contributo dei nostri cittadini in generale comunque della nostra provincia riusciamo e riusciremo a appunto raggiungere il nostro scopo ovvero quello di andare al concertone del primo maggio Noi siamo una band giovanissima ci siamo infatti conosciuti al liceo musicale di Pesaro abbiamo tutti vent'anni e grazie al liceo musicale siamo riusciti a conoscerci avere quella spinta in più per provare a fare qualcosa di reale, di concreto nella nostra vita infatti ci siamo tutti trovati molto bene e abbiamo iniziato a suonare insieme inglobando le varie sonorità che ognuno di noi riusciva a portare nella band e avendo quindi una formazione magari che non è totalmente comune nelle band giovani perché proveniamo tutti da ambienti particolarmente diversi e quindi siamo riusciti a creare qualcosa di nuovo, di fresco a nostro parere e che sembra funzionare almeno per il momento Siamo una band giovane però con molta voglia di fare quindi ci stiamo muovendo sempre nel nostro territorio anche al di fuori in altre regioni per esempio siamo stati a Pisa avremo anche altri momenti in altre città sicuramente Milano, Roma principalmente ora il 2 di aprile ci sarà un evento al Miralfiore dove ci hanno chiamato per suonare anche per organizzare le varie scalette il 14 apriremo un emergente di Roma a Fano in un locale dove ci hanno contattato stiamo preparando vari brani soprattutto anche col nostro collettivo che abbiamo creato con altre persone ci sono altri tre elementi all'interno di questo collettivo stiamo preparando un piccolo pack di tre canzoni intanto per poi concentrarci sulla nostra band reale quindi Revenant dove abbiamo già registrato due inediti e abbiamo sempre qualcosa di nuovo da proporre come ad esempio colonne sonore per film comunque siamo stati chiamati anche da altri ragazzi per partecipare a queste altre attività quindi abbiamo un po' tutto in ballo a livello musicale Come si fa per votarvi? C'è un link molto semplice che vi porta direttamente al nostro specifico spazio all'interno del sito del primo maggio dove appunto c'è un semplicissimo tastino con un pollice in su normalissimo like basta premere quel tasto lì e appunto ci regalerete un voto non sto a te dirlo e allora supportiamo e sosteniamo questa band pesarese che potrà accedere al concertone del primo di maggio a Roma invece voi restate con noi anche questa sera perché subito dopo la replica di questo telegiornale le 20.40 e quindi intorno alle 21.20 vedrete quella che è stata la cerimonia del conferimento del sigillo di Ateneo a Carlo Pagnini quindi vi aspettiamo chiaramente su Rossini TV mentre domani vi aspetto puntuali alle 7.20 con la nostra rassegna stampa sarò in diretta sia sul canale 80 ma anche sulla nostra pagina Facebook e poi giovedì quindi domani giovedì 30 marzo attenzione in diretta alle 21.20 un altro grandissimo ospite nel nostro insieme a canestro Cheatman che è l'ala della Carpegna Prosciutto e poi abbiamo anche Thomas Nobili che è lo speaker ufficiale della Carpegna Prosciutto vi aspettiamo potete commentare in diretta al numero che vedete di Whatsapp oppure nella diretta della nostra pagina Facebook per vincere i biglietti per la prossima partita che come sapete sarà domenica alle ore 19 alla Vitrifrigo Arena Grazie come sempre per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di serata